Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È il 3 maggio del 2006 e ci troviamo a Roma. In una zona di periferia, in una stazione di servizio lungo la via Casilina, viene ritrovato il corpo senza vita di una donna, con la testa mozzata. La testa dista dal corpo circa 15 metri. Alle prime luci dell'alba, il capo della sezione omicidi della squadra mobile di Roma, Eugenio Ferraro, viene contattato dalla centrale operativa. Sul posto del macabro ritrovamento, oltre al cadavere, vengono rinvenuti anche alcuni oggetti che risultano essenziali nella ricerca del colpevole del crimine. Nei pressi di un cassonetto le vicino è stata abbandonata l'arma del delitto, ossia un coltello da sub che evidenzia tracce ematiche, mentre nei dintorni del cadavere si individuano dei mozziconi di sigaretta. Questi sono i primi elementi che danno avvio all'indagine, mentre affiorano già alcune ipotesi. Si presume che la donna sia stata decapitata dopo la morte, perché sotto il corpo non è presente una cospicua quantità di sangue. Si evidenzia una ferita al centro del petto che, come confermerà la successiva autopsia, aveva interessato il cuore ed era dunque stata la causa della morte. Una mano della vittima riporta anche qualche lesione da difesa. Questa donna dunque è stata prima uccisa e poi decapitata e il delitto è avvenuto su una strada molto trafficata. L'identificazione del cadavere non è immediata, ma sotto il corpo viene rinvenuto un telefono cellulare che, dopo pochi minuti, inizia a squillare. A chiamare la vittima è un uomo che si ritrova a parlare con un agente della squadra omicidi. L'autore della telefonata negli ultimi mesi ha ospitato la donna in casa propria, dove vive anche con la moglie. Era un suo amico. Ora, grazie alle informazioni ricavate, identificare la vittima è più semplice. Si tratta di Patrizia Silvestre, di 49 anni, sposata con Gaetano Tripodi, un'autotrasportatore più giovane di lei di circa 10 anni. Patrizia era reduce da una situazione familiare complicata, aveva avuto una figlia da un precedente matrimonio e vissuto un passato inquietante. Forse per questo era stata ospitata da un'altra famiglia? A rivelare qualcosa di più è il diario di Patrizia, trovato proprio a casa della famiglia che lo ospitava. Da quelle pagine emerge il profilo di una donna fragile e sola, che spesso confonde la realtà con la fantasia. Patrizia raccontava di aver frequentato l'elementare a Roma, le medie e il liceo classico a Londra, l'università da reporter a New Orleans. Scriveva ancora Patrizia viveva una realtà reale, passatemi il termine, e una parallela frutto della sua fantasia. Dove finisce la realtà e inizia la fantasia è impossibile capirlo sfogliando il diario in cui Patrizia scrive anche Cercavo mio fratello Corrado, il mio fratello gemello. Mio padre mi disse che era in India, poi mio padre fu ucciso. Quando me lo dissero non riuscì a piangere, mi sentivo solo abbandonata. Dal punto di vista investigativo, il diario con il suo contenuto riccamente immaginativo serve a poco. Anzi, risulta inaffidabile. Patrizia cita situazioni che non ha mai vissuto quelle pagine danno sfogo a una specie di delirio. Infatti la squadra mobile di Roma, che verifica tutti gli elementi di prova individuati, non trova riscontri nelle dichiarazioni di Patrizia. Non viene constatato e accertato il viaggio all'estero negli Stati Uniti, né la presenza di un fratello gemello, né ancora il suo passato da giornalista della Reuters. Qualcosa di autentico però emerge. L'inquietudine della donna, la sua fragilità nei confronti del marito. I due si erano conosciuti all'inizio degli anni Ottante e avevano assecondato un incontro pericoloso, scottante come ciò che può giungere dall'inferno. Si erano infatti avvicinati al mondo del satanismo. Patrizia per anni aveva preso parte a una setta, una costola dei bambini di Satana fondata da Marco Dimitri. Ve ne parlo brevemente. Il caso giudiziario che vede coinvolti i tre esponenti del gruppo dei bambini di Satana si consuma a Bologna tra il 1996 e il 1997. Le accuse a loro carico sono gravissime. Violenza intima, pedo e omicidio rituale, ma il processo si conclude con l'assoluzione degli imputati. Nulla di quanto detto sul loro conto. Era risultato vero. Questa vicenda racconta dunque di un clamoroso errore giudiziario. Marco Dimitri, capo dell'associazione, ottenne anche un risarcimento per i 400 giorni trascorsi in carcere. Tornando alla nostra storia, proprio Marco Dimitri era entrato in conflitto sia con Patrizia che con Gaetano perché la coppia, stando a quanto si racconta, aveva fornito al capo della setta delle generalità false e Marco allora aveva deciso di escluderli dal gruppo. Patrizia e Gaetano a quel punto avevano fondato una setta tutta loro chiamata gli eletti di Satana. La presenza del satanismo in questa vicenda ben collima con la natura della morte di Patrizia, ossia la decapitazione. Un gesto estremamente violento ma anche simbolico. Gli investigatori accolgono questa ipotesi dal carattere suggestivo. Il modus operandi dell'omicida sembra infatti aderire a una sorta di rituale. Dunque questa pista non può essere esclusa. Il focus dell'indagine, attenzione, non è certo il mondo del satanismo, ma i ruoli e le implicazioni di Patrizia e Gaetano all'interno di questa setta. Il gruppo degli eletti di Satana si poneva al vertice del satanismo più estremo, quello che sconfina nell'uso di sostanze e nelle violenze intime. Patrizia aveva partecipato a un rituale dal nome Accoppiarsi con Satana, che in questa circostanza veniva impersonato dal marito Gaetano. Era proprio Patrizia ad averlo raccontato, spiegando che aveva avuto rapporti sia col marito che con altri membri della setta. Infine le avevano fatto bere un intruglio che l'aveva portata allo svenimento. Arriviamo al 1999, quando Patrizia si distacca dagli eletti di Satana perché ritiene che abbiano commesso degli abusi a suo danno. Dunque li denuncia. La setta a questo punto si scioglie, in quanto la presenza di Patrizia era essenziale, lei era la sacerdotessa, una figura fondamentale dal punto di vista esoterico, in assenza della quale lo squilibrio del gruppo è inevitabile. Passano gli anni e nel 2004 Patrizia Silvestri diventa una collaboratrice della polizia, una consulente degli investigatori in un'altra famosissima indagine, quella sulle bestie di Satana. Un gruppo di satanisti, anche se per quanto mi riguarda la loro, era una setta e serial della provincia di Varese, responsabili di induzione al suicidio e altri omicidi. Patrizia viene consultata in qualità di esperta del modus operandi dei membri delle sette sataniche. Quindi viene spontaneo a domandarsi, la sua collaborazione con gli inquirenti potrebbe aver dato fastidio a qualcuno? Gli esperti di satanismo sostengono che, per il modo in cui è stata uccisa, Patrizia è stata punita per aver parlato, perché ha tradito un patto di segretezza, fatto all'interno della setta. Si presume che abbia subito le conseguenze di un rituale chiamato Legge del Contrappasso, in base al quale la vittima viene uccisa con una modalità che fa riferimento al peccato da lei commesso. Patrizia, in senso metaforico, aveva tagliato la testa alla setta. Ecco perché era stata decapitata. Concretamente, aveva messo in pericolo la setta, coinvolgendola in atti giudiziari. La setta aveva così perso la propria segretezza e aveva dovuto sciogliersi. A prescindere dalla posizione degli esperti del satanismo e dalla loro suggestiva visione dei fatti, inquirenti e investigatori devono accertare gli eventi tramite le fonti di prova e le testimonianze. Lo studio di questi elementi delinea infatti un quadro ben diverso, in cui Patrizia Silvestri e il marito erano diventati distanti. Avevano fatto una scelta, anche da un punto di vista spirituale, diametralmente opposta. Patrizia infatti nel tempo sperimenta una propria evoluzione della fede, interrompendo il legame con il satanismo per sposare un altro credore religioso. Patrizia abbraccia il sufismo, ossia un ramo mistico dell'islam di perfezionamento spirituale. È contenta di questa scelta che le dona una rinnovata ricchezza interiore e spiritualità. All'interno della sua nuova famiglia trova anche dei punti di riferimento, degli affetti che, fino a quel momento, non aveva mai sperimentato. Per un periodo Patrizia va in giro indossando abiti islamici e si sposa con rito religioso sufi. Ha assunto un nome islamico, quello di Solaima, mentre il marito si fa chiamare Khaled. Patrizia dunque sembra aver voltato pagina per scrivere un nuovo capitolo della sua vita decisamente più sereno. Tuttavia l'epilogo di questa storia non le riserva alcun lieto fine. Torriamo così al giorno in cui il suo corpo senza vita decapitato viene ritrovato nella periferia di Roma in un distributore di benzina di via Casilina. Le domande più urgenti sono che cosa ha fatto la donna nelle ore che precedono la sua morte? Come ci è arrivata alla stazione di servizio? Qualcuno l'ha accompagnata? O ci è andata da sola? Le prime indicazioni, come detto, vengono fornite dalla famiglia che ospitava Patrizia. Dicono che quella sera Patrizia esce di casa tra le 21 e le 21 e 30, asserendo di avere un appuntamento con il proprietario dell'appartamento in cui viveva prima, presso il gabbiotto del comprensorio di Torre Gaia. Alle 23 e 30 Patrizia non è ancora rientrata, allora l'amico che la ospita decide di farle una telefonata. Patrizia gli risponde che sta prendendo un caffè con un'amica, l'uomo e sua moglie si tranquillizzano, ma la mattina dopo, quando si svegliano, si rendono conto che Patrizia non è ancora rincasata. Non c'è nella sua camera, né da nessun'altra parte. Il dato certo è che l'ultima persona a parlare con Patrizia è stata proprio l'amico che la ospitava. L'ora della telefonata è le 23 e 30 e secondo il medico legale Patrizia è morta tra mezzanotte e le 3 del mattino. Chiaramente in quella telefonata Patrizia ha mentito, raccontando di essere in compagnia di un'amica, ma occorrerà ben poco tempo per scoprire che la verità è un'altra. Patrizia non ha voluto comunicare con chi aveva un appuntamento in realtà, ma per quale ragione? Gli inquirenti a questo punto acquisiscono i tabulati telefonici, dunque tutte le chiamate in entrata e in uscita intrecciano la rete investigativa dove fissare atti concreti. Patrizia aveva due telefoni e la sua posizione è costantemente tracciata. Dinanzi allo sguardo degli inquirenti si delineano diverse piste, scelgono di seguire dapprima quella incentrata sul satanismo. Tuttavia dall'analisi del traffico telefonico non emergono contatti con questo mondo, né con i membri delle sette a cui apparteneva, quindi questa pista viene accantonata. Proprio l'analisi del traffico telefonico esorta gli inquirenti a seguire la pista della relazione tra Patrizia e suo marito, che si identifica come un personaggio violento. Il diario di Patrizia, poco attendibile su certi fronti, da questa prospettiva è un valido indizio, infatti la donna scriveva Tutte le mattine entra in camera, mi lega, mi mette un cerotto sopra la bocca e comincia a parlarmi per ore e ore dicendomi Tu sei il diavolo, hai ucciso mia madre e io farò morire te. Per quanto mi riguarda è chiaro che col tempo la coppia era entrata in crisi. Patrizia ribadiva che amava il suo uomo, che aveva tanto bisogno di lui, ma contemporaneamente raccontava quanto lui potesse diventare cattivo, violento, e lo detestava per questo. Il rapporto era proseguito in maniera ambigua fino a quando, come Patrizia racconta, la donna aveva voluto la separazione. Ciò nonostante, la coppia aveva mantenuto dei contatti. C'erano incontri, riavvicinamenti, nuovi allontanamenti, liti e riappacificazioni. Quello di Patrizia e Gaetano era sicuramente un rapporto tormentato. Anzi, io lo definirei tossico, difficile da troncare in maniera definitiva. In questi casi bisognerebbe attuare un no contact, eliminando i contatti di qualsiasi natura per un lungo periodo di tempo, se non per sempre. Ma questa, sottolineo, è una mia opinione. In ogni caso, tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, il rapporto tra Patrizia e Gaetano arriva al capolinea. Tuttavia, siccome Patrizia non lavora, continua a dipendere dal marito, almeno dal punto di vista economico. Patrizia racconta di subire maltrattamenti e umiliazioni, finché nel febbraio del 2006, Gaetano va via di casa. Ha deciso che non vuole stare più con la moglie, ha abbandonato la famiglia, ma non cerca ospitalità da qualche amico o parente. Gaetano diventa un uomo senza fissa dimora. Dorme per strada, si lava nelle stazioni di servizio, mangia soltanto a bordo del suo camion e non provvede in alcun modo a fornire mezzi di sussistenza a Patrizia, nonostante le sue numerose richieste. Ecco perché gli amici l'accolgono in casa loro. Ma non è finita qui. Patrizia racconta alla coppia che ha paura di Gaetano perché lui la vuole uccidere. L'amico che la ospitava spiega che l'aveva anche accompagnata a fare una denuncia dai carabinieri perché Patrizia ripeteva costantemente che Gaetano la voleva morta. Nella denuncia è verbalizzata una frase del marito è riportata alla Patrizia che risulta essere quasi un presagio. Ovvero ti ammazzo, ti levo dalla faccia della terra, ti farò sparire con una zampata, ti stacco la testa dal collo. Arriviamo al 2 maggio del 2006 quando Patrizia chiama un suo amico Riccardo Tomassini. Gli dice che è terrorizzata perché in serata deve incontrare l'ormai ex marito e teme che lui possa farle del male. Riccardo tenta in tutti i modi di dissuaderla dall'incontrare Gaetano ma Patrizia spiega che questo chiarimento definitivo è necessario. Eppure prova terrore perché come dice al suo amico Gaetano è una persona capace di fare del male. Poteva addirittura arrivare a ucciderla per l'appunto. A questo punto investigare sulla figura dell'ex marito diventa una priorità analizzando l'alibi di Gaetano in quelle ore. Parte così una vera e propria caccia all'uomo. Gli inquirenti eseguono una perquisizione nell'abitazione dei coniugi ormai abbandonata. Su una parete notano diverse parole scritte a caratteri cubitali. Sono messaggi di Patrizia chiaramente rivolte a Gaetano. Si legge vigliacco più e più volte. Poi trovano alcuni dati sulla cooperativa di autotrasportatori presso cui lavora Gaetano. Gli inquirenti li recuperano e si dirigono a interrogare i datori di lavoro. Questi ultimi riferiscono che la mattina del 3 maggio giorno dell'omicidio di Patrizia Gaetano Tripodi aveva effettuato una consegna tra Formia e Cassino e che il 4 sarebbe dovuto tornare a Forlì per effettuare un'altra consegna. Gli inquirenti lo individuano a Forlì lo pedinano e riescono a fermarlo. Si trovano davanti un uomo alto e molto robusto udendo le prime domande degli agenti Gaetano fa finta di non capire. Dice di aver incontrato l'ultima volta la moglie il 29 aprile ma di averla sentita telefonicamente il 2 maggio quando lei gli avrebbe chiesto un appuntamento urgente che lui aveva dovuto rifiutare perché era impegnato al lavoro. Il PM ora non ha dubbi e decide di effettuare un fermo di indiziato di reato. L'uomo quando viene interrogato spiega che a sua moglie non aveva mai fatto nulla di male i rapporti tra loro non erano né minacciosi né aggressivi né quindi basati sul terrore. Dice che non le aveva mai messo una mano addosso anzi sottolinea che le uniche botte date a sua moglie non erano altro che scolacciate sul sedere forse riferendosi ai loro momenti di intimità. A detta sua Gaetano non aveva motivo di ammazzare la moglie reato di cui lo stanno accusando. Anche se le indagini sono appena iniziate sembra che la squadra mobile di Roma abbia già trovato il colpevole che rimane detenuto in carcere. Qualcuno ha i suoi dubbi sulla vicenda e si chiede se sia corretto che Gaetano si trovi in prigione. Il capo della sezione omicidi della squadra mobile sostiene che non sono assolutamente stati frettolosi. Hanno dovuto arginare il concreto pericolo di fuga dell'indagato e nutrono forti dubbi riguardo alla sua posizione in riferimento alle ore che precedono l'omicidio e in base a quanto risulta dalle analisi dei tabulati telefonici. Gaetano ha dichiarato di essere partito da Milano e che era diretto verso Formia e Cassino poi a Napoli quindi giunto nei pressi di Roma per logica avrebbe dovuto dirigersi verso sud invece era uscito in direzione Roma Nord alle 20.08 e si era diretto verso il centro di Roma per poi rientrare in autostrada tramite il casello di Roma Est a mezzanotte 33. Ma Gaetano come giustifica questa variazione di percorso? L'uomo ha pronta una sua versione dei fatti aveva un forte dolore ai denti ed era uscito a Roma Nord perché aveva una mezza idea di andare al pronto soccorso poi ci aveva ripensato e aveva ripreso a guidare verso sud a Roma Nord però aveva sostato a lungo in alcune aree di servizio per fare dei risciacqui alla bocca che alleviassero il dolore e per riposarsi in particolare si era fermato alla stazione di benzina di Fiano Romano tra le 20.30 e le 21 poi in quella di Sette Bagni tra le 21.30 e le ore 23 a supportare l'inchiesta nel ricostruire i movimenti di Gaetano c'è anche il disco cronotachigrafo un dispositivo che viene installato obbligatoriamente sui veicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate come autocarri autotreni e autoarticolati e su veicoli destinati al trasporto di passeggeri come autobus e autosnodati con numero di persone compreso il conducente superiore a 9 il cronotachigrafo dunque è uno strumento che consente di controllare l'andatura dei mezzi pesanti registra velocità soste tempi e pur senza fornire la localizzazione del mezzo individua gli spazi percorsi e il tempo in cui rimane fermo gli inquirenti incrociano i dati ottenuti dal cronotachigrafo con l'analisi del telepass e riescono a ricostruire con esattezza i movimenti di Gaetano il percorso che ha effettuato quella notte tra il 2 e il 3 maggio vi ricordo che Patrizia Silvestri è morta tra la mezzanotte e le 3 del mattino come viene ufficializzato alle 20.07 il mezzo guidato da Gaetano esce dall'autostrada 1 e prende il casello di Roma Nord un paio di minuti più tardi si ferma la stazione di Feronia Ovest si trattiene per circa 43 minuti poi riparte percorre altre 17 chilometri dopodiché sosta per pochi minuti e non per un'ora e mezza come aveva dichiarato l'indagato presso la stazione di Sette Bagni da qui riparte alle 21.07 si mette sul grande raccordo anulare fino all'uscita di Torbella Monaca si muove proprio nella zona in cui si trova Patrizia Silvestri nello stesso momento si ferma fino alle 21.25 nel presse di un grande parcheggio adiacente alla fermata degli autobus di Grotte Celoni poi riparte a mezzanotte i 12 minuti diretto nuovamente verso il casello di Roma Est il crono tachigrafo come se vince racconta una storia diversa da quella ricostruita da Gaetano quella sera lui e la sua ex moglie Patrizia si trovava a una Torbella Monaca nello stesso momento quanto agli sviluppi derivati dallo studio dei tabulati telefonici emerge una serie di telefonate senza risposta in riferimento alla sera si rileva qualcosa di più interessante su uno dei due telefoni di Patrizia arrivano due telefonate mentre la donna è già nel luogo dove verrà ritrovata cadavere uno dei due cellulari in questione è scomparso e le autorità ipotizzano che l'abbia sottratto Gaetano Tripodi alle 21.38 e alle 21.43 sul telefono della donna arrivano altre due telefonate questa volta però provenienti da cabine telefoniche gli inquirenti non intengono classificarle come semplici chiamate sconosciute così individuano le cabine telefoniche da cui sono partite presenti entrambe nell'area di sosta di Grotte Celoni le telefonate sono state effettuate tramite una scheda SIM una tessera già utilizzata per fare altre quattro chiamate sempre indirizzate a Patrizia Silvestri che risalgono al 4 marzo quindi a due mesi prima tre di queste chiamate erano partite da una cabina telefonica di Marigliano un comune di Napoli quella restante da Tiano in provincia di Caserta sempre in Campania gli inquirenti individuano le cabine telefoniche per scoprire se Gaetano sia l'autore delle chiamate rintracciano il camion che conduceva all'epoca fanno degli accertamenti e hanno conferma dei loro sospetti quella sera dell'omicidio risultano anche cinque telefonate partite dal telefono di Patrizia e dirette su quello di Gaetano effettuate tutte nel giro di cinque minuti tra le 22.02 e le 22.07 queste chiamate sono fondamentali perché Gaetano sosteneva di averle ricevute mentre era fermo nell'area di sosta di sette bagni in realtà gli sono arrivate mentre si trovava sotto la cella di via Amico Aspertini nelle immediate vicinanze di Grotte Celoni la scientifica si reca nel luogo in cui è stato trovato il corpo di Patrizia reperta in sede di sopralluogo e sequestra il coltello da sub e sette mozzicone di sigaretta su sei di questi viene trovato il DNA di Patrizia sul mozzicone restante si rileva il DNA di Gaetano tracce del DNA di entrambi emergono anche sull'arma del delitto il coltello si tratta di prove schiaccianti al processo Gaetano Tripodi viene condannato in primo grado a 30 anni di reclusione e la sentenza viene confermata nei due gradi di giudizio successivi a scatenare la macabra furia omicida di Gaetano sarebbero stati i dissapori tra la coppia tuttavia questa vicenda non si conclude qui ben 14 anni dopo l'omicidio di Patrizia Silvestri si registrano dei risvolti incredibili che aggiungono nuove pagine al libro nero che racchiude questa storia Gaetano Tripodi muore in cella per cause naturali il 4 luglio del 2002 questo riportano i giornali e come da prassi il suo profilo genetico viene prelevato e inserito nella banca dati della polizia criminale che dal 2016 contiene i profili di tutti coloro che sono stati arrestati per qualsiasi reato ora però ci proiettiamo indietro nel tempo 8 anni prima dell'omicidio di Patrizia nel giugno del 1998 la 59enne Elisea Marricone e la figlia adottiva Cristina De Carli di 23 anni vennero trovate senza vita trucidate uccise a sprangate nel chiosco che gestivano sulla spiaggia di Rosolina Mare in provincia di Rovigo in quell'estate del 98 le piste battute furono moltissime ma il caso di questo duplice omicidio era rimasto irrisolto dopo lungo tempo con la morte di Gaetano Tripodi il profilo genetico da lui prelevato viene comparato con quello trovato sui vestiti indossati dalle due donne e si diffonde la notizia che il DNA combacia al tempo Gaetano era già un adepto di una setta satanica ma dunque era anche uno spietato serial che uccideva le donne in giro per l'Italia in realtà c'è proprio qualcosa che non quadra nelle ricostruzioni dei giornali per cui bisogna essere più precisi prima di tutto Gaetano non muore nel 2020 come tutti scrivono ma era già morto nel 2011 ma soprattutto il DNA trovato sulla scena del crimine in Veneto non corrisponde esattamente a quello di Gaetano bensì al DNA rinvenuto su una maglietta che si trovava nel suo camion durante le indagini successive alla morte di Patrizia Silvestri il camion guidato da Gaetano chiaramente era stato sequestrato alla ricerca di tracce riconducibili all'omicidio tra i vari oggetti recuperati all'interno e analizzati c'era una maglietta bianca a maniche corte sulla quale si evidenziavano delle macchie di sangue si era presunto che il sangue fosse riconducibile allo stesso Gaetano o a Patrizia ma dopo le analisi si scopre che non è così e quel DNA venne classificato come ignoto di chi si trattava? forse di un complice? secondo il dottor Ferraro no è più probabile che la maglietta sporca di sangue appartenesse a qualcuno che Gaetano aveva soccorso in passato o con cui aveva avuto una lite molti anni dopo grazie all'avvento della banca dati del DNA questo profilo è stato registrato per eventuali confronti infine nel 2020 in seguito alla decisione della procura di Rovigo di riaprire le indagini sull'omicidio di Elisea e di Cristina avviene il cosiddetto match è il DNA dell'ignoto repertato sulla t-shirt trovata sul camion di Gaetano a coincidere con quello trovato su un bicchiere di vetro presente sulla scena del crimine di Rosolina a giugno del 1998 il mese in cui è morta Elisea chiamava spesso la sorella per dirle che c'era un uomo soprannominato il romano che la tormentava insisteva con delle richieste a quanto pare di tipo economico l'identità di questa persona non è nota ma si sapeva che era un camionista anche se nessuno dei parenti delle vittime trevigiane aveva mai avuto modo di incontrarlo che Gaetano Tripodis è il punto di contatto da cui avviare una nuova indagine per individuare un altro assassino l'ignoto il colpevole impunito la cui scia di sangue si estende dalla spiaggia di Rovigo fino al camion di Roma gli spunti investigativi sembrano sussistere detto questo e ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se conoscevate questo caso a me è inquietato particolarmente soprattutto per la questione delle sette sono onesta ma sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo caso anche perché ho letto che in alcuni casi si dice che Gaetano in pratica è stato messo in prigione con pochissime prove insomma poteva continuare a sussistere il ragionevole dubbio secondo me non è così nel senso che secondo me era lui il colpevole insomma e il fatto che abbia mentito sulla sua posizione sui suoi spostamenti per quanto mi riguarda la dice lunga ma voi ripeto cosa ne pensate come al solito ci vecchiamo qui sotto nei commenti fatemi sapere quello che pensate di questo caso se lo conoscevate se è la prima volta che l'avete sentito e soprattutto qual è la vostra idea nel merito io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti